Gentili telespettatori, buona giornata. Sapete quanto l'Europa paga alla Russia di gas al giorno? Si parla di un miliardo al giorno, vuol dire 365 miliardi all'anno. Una cifra enorme, non miliardi di lire, ma miliardi di euro. Pertanto, se mettiamo l'embargo all'energia russa, possiamo fare a meno del gas russo per il prossimo inverno, ma soltanto mettendo in campo delle strategie diversificate. Nel senso che l'embargo, le sanzioni alla Russia, da una parte, e dall'altra parte spendere un miliardo al giorno, insomma, lascia da pensare. Arrivederci a tutti e grazie.